Allora, 26 agosto 2012, stiamo giù al Granatello, alle presse della spiaggia Mortelle e vi posso assicurare, da come si vedono l'immagine, il mare è pulito a Portici. Il mare a Portici è pulito. E vi comunico anche che è partita una lettera ufficiale al Ministro dell'Ambiente Clini riguardo i problemi che ci sono a San Giovanni, a Napoli e all'impianto di Cuma per i problemi che ci sono stati a Portici. Ovviamente a questa lettera mandata all'onorevole Clini, anche al Comune di Napoli e per conoscenza al nostro caro sindaco Cuomo che anche lui si è interessato e si sta interessando per il problema delle acque marine, per l'inquinamento, per combattere l'inquinamento. Come potete vedere, oggi, 26 agosto 2012, l'acqua è pulita perché fanno sempre vedere quando l'acqua è sporca però quando è pulita non lo fanno vedere per chi vuole fare demagogia e invece è giusto anche che si faccia vedere quando l'acqua è pulita ripeto, stiamo giù alle spiagge mortelle sulla piattaforma e come si può vedere l'acqua è pulita con questo ho finito, grazie